Quando fai la spesa, ricordati di restare ad almeno 2 metri di distanza dalle altre persone. Usa i guanti e la mascherina e preferisci il Bancomat come sistema di pagamento. Riduci i rischi e i tempi di permanenza in negozio venendo da solo e facendo una spesa alla settimana. Super V, Junior V e V Store. Insieme ce la faremo!